Volano le piazze finanziarie europee sulle notizie in arrivo dalla Grecia. I mercati finanziari credono in un accordo con i creditori che potrebbe essere siglato già nelle prossime ore. Compatta rialzo le borse del vecchio continente, con Madrid che guadagna il 3,3%, Parigi segna più 3,07%, Londra più 1,39%, Francoforte più 2,9%, Zurigo più 1,66%, Amsterdam più 2,43%, Bruxelles più 2,38%. A Milano il Futsimib chiude in progresso il 3% a 22.443 punti. I listini beneficiano anche del forte recupero delle borse cinesi dopo l'intervento delle autorità governative di Pechino. Shanghai ha chiuso in progresso il 4,5%. Si riduce fortemente anche il differenziale tra BTP e Bund e decennali tedeschi che chiude a 125 punti base con un rendimento del 2,15%. A favorire Milano sono anche le buone notizie che arrivano sul fronte della produzione industriale, in aumento dello 0,9% a maggio. Il Ministero del Lavoro ha reso noto anche che a maggio sono stati 185.000 nuovi contratti. Compatta rialzo le banche con MPS che vola a 1,72 euro, più 8,17%, bene anche Unicredit a più 4,16% e Intesa San Paolo a più 4,42%. Unico titolo in rosso è Saipem che lascia sul terreno il 4,4% continuando a scontare la cancellazione del contratto South Stream.